L'installazione è complicatissima, insomma c'è anche un acquario, ma non lo diciamo adesso, lo vedrete dopo, è arrivato a quell'altro, al posto Boccia, in maniera decida urbana, potrà entrare anche alla scelta dei colori. Allora, l'interessante è questo progetto, ogni anno ci sono degli esempi che ritornano, lo chiamiamo, come si chiede architettura, c'è qualcosa che lo porta in alto, che lo sostiene, ma la cosa che ci è piaciuta, vediamo che l'immagine successiva è la varietà delle declinazioni che lui ha operato, e anche, cosa che sembra una, quasi una architettura naturale, l'immagine successiva, lo vediamo ancora meglio, eccolo qua, ci sembra bene queste ambientazioni, queste visioni che le persone danno e ci permettono di vedere un bicchiere come un'architettura a soltanto nei suoi colori. Anche al posto c'è? C'è al posto Boccia, ho detto, è tutto. Anche a scuola di Enica, non mi ricordo, perché è quello che c'è. Zero, posso dire? Allora, l'altro, perché adesso, un'unione di te che ci segui da tanti anni, ci fa piacere che, e anche questo anno, vuol dire, io di voi, è comunque che è stato, detto, occupare, diciamo così. Grazie mille, l'altro, ciao. Grazie mille, 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 gra